Allora, parliamo di tecnologia. B75, doppia lampada, quindi lampada scialitica, opzionabile da un display e un concentrato di tecnologie. Intanto, lato illuminazione. Possiamo scegliere l'illuminazione dentale, quindi 50.000 lux, un po' come la nostra Evacam. Illuminazione scialitica, spot più ampio, circolare, quindi non elliptico, 25 centimetri, illuminazione da scialitica, 160.000 lux, tutto comandabile tramite sensore a sfioramento oppure touchpad. Concentrato tecnologico enorme, lato comunicazione. Lampada 4K, in questo dispositivo non c'è, in questo prototipo, nelle altre sì, è un'opzione. Lampada 4K con messa a fuoco continua ma bloccabile dall'operatore. Io la sto usando in maniera in autofocus, diciamo. In streaming diretto, quindi la lampada proietta direttamente via USB su un computer o un Mac e quel flusso video è ininterrotto. Puoi registrare 9, 10, 24 ore non stop, mandare streaming sulle piattaforme, mandare streaming all'interno dello studio e lei non si ferma mai. Nessun problema di schede di memoria, di batterie, è veramente molto 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 comoda. Quindi tanta tecnologia a tutta quella che serve e io amo la tecnologia B75, ottimo prodotto. Grazie.